208 Lelia Che Santa Teresina mi tolga almeno i dolori Questa lettera è quasi una copia della lettera mandata all'altro figlio Giuseppe Mio carissimo fratellario Roberto 19 febbraio 51 Come sono contenta di aver ricevuto la tua carissima lettera Grazie ai superiori tanto buoni e a te figlio mio caro Francesco mi ha portato adesso la sua risposta Ed io pure voglio aggiungere due righe Sto sempre lo stesso E per dormire alle 11 di sera faccio un'iniezione di morfina Così riposo bene Stanotte sono stata sempre con te Però mi pareva che tu avessi avuto male alla spalla destra Che tenevi più alta dell'altra Ed io ti domandavo tante cose Della salute e delle scarpe La tua lettera mi ha tranquillizzata E ne ringrazio Dio Francesco ti ha scritto tutto Se Agilde e Virgilio continuano ad andare a messa E ti ricordano sempre Così pure sia Giulio e Zio Guido Che sta di nuovo a letto Ma da ieri non ha più febbre Fra Raffaele adesso sta bene E speriamo che questa benedetta influenza scompaia del tutto Dei parenti di Napoli nessuna notizia Solo si sa che Zio Lino non sta bene Qui la solita vita Papà all'ufficio Leo al quale sta spuntando un dente del giudizio Divide il suo tempo tra università e studio Teresa spero che riprenda presto lo studio Dopo quasi un mese di assenze Io ho incominciato una nuova cura Di disinfettanti per l'addome E ricostituente per l'organismo in generale Speriamo che tutti questi sbucchi e le lamenti Mi facciano bene Tanto da permettermi di venirti a trovare per Pasqua Fra poco ritorno a papà E gli lascio un po' di spazio Grazie delle preghiere Speriamo che Santa Teresina mi tolga almeno i dolori O segui i superiori A te tutte le più sante benedizioni da mamma